Timelapse e hyperlapse sono tecniche affascinanti, a metà strada tra fotografia e videografia. Funzionano particolarmente bene con i droni e ho fatto innumerevoli video a riguardo. In questo mostrerò come realizzare un timelapse con un drone dall'inizio alla fine, nella maniera più semplice possibile, in modo che un principiante possa facilmente iniziare a crearli. Molto presto ne realizzerò un altro simile, ma che riguarda gli hyperlapse. Utilizzo l'ottimo Mini 3 Pro, ma le stesse impostazioni valgono anche per gli altri modelli dell'attuale linea DJI ProVumer. Le due tecniche sono praticamente identiche. L'unica differenza è che nel caso di un timelapse il punto di vista, che è la telecamera del drone, è statico, mentre in un hyperlapse il velivolo è in movimento. In entrambi i casi la scena deve contenere una buona quantità di movimento proveniente da automobili, persone che camminano, barche o altri veicoli. In altri casi il movimento può essere dovuto a eventi naturali, come nuvole o transazioni dal giorno alla notte. Questa è la scena che ho scelto, un paesino ai piedi dell'Etna con il vulcano alle spalle. Mi concentrerò sul centro del villaggio per semplificare le cose. La fotocamera punterà verso il basso, mantenendo il cielo fuori dall'inquadratura, così che la differenza di luminosità sia molto bassa, il che semplifica l'esposizione. Quindi dobbiamo scegliere il momento migliore della giornata. È un villaggio molto tranquillo e abbiamo bisogno di un po' di movimento, quindi mi concentrerò sui momenti più affollati della giornata, che dovrebbero essere tra le 8 e le 9 del mattino e attorno alle 7 di sera. Questi sono anche orari per buone condizioni di luce. Evito sempre di scattare nel mezzo di una giornata di sole, perché le ombre sono troppo dure e i risultati sempre molto deludenti. Molto meglio scegliere le prime due ore dopo l'alba o le ultime due prima del tramonto, per ombre molto più morbide. Un altro momento ideale per un timelapse è subito dopo il tramonto, quando le luci artificiali si accendono, mentre c'è ancora un po' di crepuscolo. Un'altra cosa da considerare è la posizione del sole nella scena. Verso le 8 del mattino il sole sarà dietro la telecamera, il che facilita le cose. Per i principianti è meglio evitare di riprendere timelapse con droni in direzione del sole, poiché si tratta di una tecnica molto avanzata che richiede seria post-elaborazione. La prima decisione da prendere è la durata del timelapse, che dipende da quella della batteria. La batteria normale del Mini 3 Pro ha una durata di circa 30 minuti. Considerando il tempo per la preparazione e per un sicuro ritorno a casa, è meglio programmare un tempo di ripresa massimo di circa 22 minuti. In genere per timelapse scelgo quindi una durata del filmato di 13 secondi. Questo richiede poco più di 300 foto quando si utilizza un timeline di 24 fotogrammi al secondo, poiché 13 secondi moltiplicato per 24 fotogrammi al secondo uguale 312 scatti. Il secondo parametro da selezionare è l'intervallo tra ogni foto. Con i droni, nella maggior parte dei casi, scegliamo 3 o 4 secondi. In questo video ho coperto per intero tutte le impostazioni necessarie per timelapse e hyperlapse. Fate riferimento ad esso per maggiori dettagli facendo clic sul collegamento allo schermo. Con l'intervallo di 3 scatti il tempo di ripresa sarà di circa 16 minuti, il che lascia un ottimo margine per la batteria, mentre con un intervallo di 4 ci vorranno circa 22 minuti, che va ancora bene, ma in questo caso il tempo è un po' stretto. Quindi andiamo per una durata di 13 secondi e un intervallo di 3. Faccio decollare il Mini 3 Pro alle 8 del mattino, sperando di cogliere un movimento di auto e di persone che vanno al lavoro. Dopo aver inquadrato è il momento di impostare l'esposizione. Per i timelapse è fondamentale utilizzare sempre esposizione manuale, poiché dobbiamo avere totale controllo della velocità dell'otturatore. Con i droni il valore ideale di velocità dell'otturatore è di 1 secondo in condizioni di vento leggero, in maniera da ottenere la giusta quantità di motion blur. 1 secondo è anche il tempo necessario per premere il pulsante mi piace se trovate questo video interessante, il che è sempre molto apprezzato. Il motion blur è il fattore più importante nei timelapse. Fate riferimento al mio video specifico sul motion blur cliccando sul collegamento sullo schermo. Il Mini 3 Pro come l'Air 2S ha un'apertura fissa, quindi l'unico altro parametro da impostare per l'esposizione è il valore ISO. L'unico modello della linea DJI Prosumer con apertura variabile è il Mavic 3. Per quanto riguarda l'ISO, idealmente vogliamo impostarlo sul valore minimo, che è 100, ma se necessario possiamo salire fino a 400 senza una notevole perdita di qualità dell'immagine. Per poter impostare questi esatti valori in diverse condizioni di luce, i filtri ND sono assolutamente necessari. Nella descrizione troverete dei collegamenti per quelli che suggerisco. Maggiori dettagli sul motivo per cui i filtri ND sono necessari sono nel mio video che appare allo schermo adesso. Quando si riprendono timelapse con il Mini 3 durante il giorno, sono necessari valori di filtri ND elevati, a causa dell'apertura molto ampia di questo drone, a f1,7, in grado di raccogliere molta luce. Quando si scatta fino a un paio d'ore dopo l'alba, o prima dal tramonto, o con il sole coperto da nuvole, il valore del filtro necessario sarà ND64, 128 o 256. Un po' di pratica aiuta sicuramente. Come previsto, sono in azione alle 8 del mattino, poco più di un or dopo l'alba. Il sole splende e noto subito che la luce è già troppo forte, soprattutto per questa scena. Il paese ha strade molto strette e in questo caso una luce forte produce ombre molto dure, cosa che non mi piace. Ho la sensazione che sarebbe molto meglio iniziare un'ora prima o riprovare con il sole coperto dalle nuvole. Metto il filtro ND più forte, un potente ND1000, e inizio il processo di esposizione. Le impostazioni di esposizione sono relative ad ogni singola modalità foto o video. Quindi bisogna sempre ricordarsi di entrare in modalità hyperlapse prima di esporre. Scelgo hyperlapse e la prima modalità in alto, free, quella adatta ai timelapse statici. Mantengo il valore ISO a livello più basso, 100, e poi vado ad impostare il cruciale valore di velocità dell'otturatore. Per esporre controllo sempre attentamente l'istogramma. Per evitare di bruciare le alte luci lascio sempre un po' di spazio tra l'ultima barra destra e il bordo destro. Controllo anche il valore mm in basso. Preferisco che sia leggermente al di sotto di zero. In questo caso non riesco a impostare la velocità dell'otturatore ad un secondo, ma devo accontentarmi di un valore più rapido di un quarto di secondo. La scena sarà leggermente sorresposta e perderò un po' di sfocatura, ma è il miglior compromesso in queste condizioni. Sarebbe stato preferibile utilizzare un filtro ND più forte, un ND2000, ma non ne ho uno disponibile. Ancora meglio sarebbe iniziare un'ora prima, subito dopo l'alba, per una luce molto più morbide. Imposto quindi gli altri parametri. Per questa scena in cui il movimento principale verrà dalle auto, selezioniamo un intervallo di 3 secondi. A questo intervallo un time lapse di 13 secondi impiegherà circa 16 minuti. Abbiamo quindi un buon margine per quanto riguarda durata della batteria. Quindi imposto la durata al valore desiderato di 13 secondi. L'ultimo valore è la velocità massima, ma poiché il drone rimarrà in posizione statica, non è necessario impostare questo valore. Toccando la piccola icona in basso a sinistra, nella finestra di esposizione, inserisco altri valori. In genere imposto il bilanciamento del bianco a circa 5500 Kelvin, ma il Mini 3 tende ad una tonalità più calda, quindi con questo drone preferisco un valore inferiore, attorno a 5000. Poi scelgo la risoluzione del time lapse generato automaticamente, tra 1080 e 4K. Utilizzo sempre 4K e suggerisco di farlo, ma in questo primo esempio provo 1080, tanto per vedere il risultato. La selezione successiva consente di salvare ogni singola foto in formato JPEG o RAW. Personalmente salvo sempre ogni immagine in RAW, che poi elaboro utilizzando l'ottimo Luminar Neo e infine importo tutte le immagini come JPEG nel mio editore video. Questo processo produce risultati di gran lunga migliori, ma analizzerò la post-produzione per un time lapse in un prossimo video. Ma questo è normale nei time lapse. Dopo aver scelto la scena, la prima ripresa è utile soprattutto per esplorazione. Aiuta a scegliere le condizioni ideali per i migliori risultati. Sono sicuro che un'ora prima o appena dopo il tramonto, i risultati sarebbero nettamente migliori. Questo è il risultato del cortometraggio generato automaticamente. La stabilizzazione è già applicata, ma c'è ancora un po' di oscillazione. Le cose migliorano dopo la stabilizzazione su Premiere Pro. Non sono particolarmente contento del risultato. Le ombre sono troppo dure a causa della luce forte. Il motion blur non è dei migliori, in quanto non ho potuto utilizzare la velocità dell'otturatore l'ideale. Inoltre speravo in un po' più di movimento di auto e persone. I filmati autogenerati sono migliorati molto nei recenti modelli di DJI e possono essere utilizzati dai principianti per postare rapidamente i propri capolavori sui social. Dato che ci sono, decido di puntare la macchina fotografica verso l'Etna per una nuova scena. Questa volta il movimento verrà principalmente dalle nuvole. Non c'è quasi vento e le nuvole sembrano perfettamente immobili. Quindi porto l'intervallo tra le foto a 4 secondi per accelerare il movimento. Lo svantaggio è che il timelapse sarà leggermente più breve. Con l'intervallo più lungo tra gli scatti il movimento delle nuvole è piuttosto interessante. Al tramonto torno sulla scena precedente. Metto un filtro ND16 e queste volte riesco a selezionare una velocità di otturatore molto vicino a un secondo. Il resto delle impostazioni sono le stesse del primo timelapse. Il flusso delle auto è adesso molto più fluido, con una corretta quantità di sfocature di movimento. Anche le ombre sono più morbide. Speravo si accendessero più luci elettriche per un effetto più interessante, ma qui in questo momento cercano di risparmiare il più possibile sulle bollette. Nelle transizioni dal giorno alla notte si ottengono risultati molto migliori postelaborando i singoli RAW file, con un maggior controllo del bilanciamento del bianco e delle variazioni di luminosità. Ma ho deciso di attenermi ai timelapse generati automaticamente, perché sono più semplici per i principianti. Ho messo insieme una playlist che contiene video dettagliati su tutti gli argomenti utili per imparare a creare timelapse e hyperlapse con droni. Potete accedervi cliccando su questo link. Non dimenticate di premere il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante. Grazie. Grazie a tutti.